Dal 2015 la chiesa di Sant'Antonio, sita nell'antico quartiere della Saccara, ha aspettato l'inizio dei lavori di consolidamento e ristrutturazione e adesso, dopo il pericolo che il finanziamento venisse stornato, i lavori hanno preso vita. La chiesa, costruita nel XVIII secolo grazie alle offerte dei fedeli, in un primo momento fu soppressa dagli ordini religiosi e poi riaperta al culto nel 1877. Nel 1911 l'esorse accanto l'Istituto Boccone del Povero, che possedeva al suo interno una statua di Sant'Antonio. Con questo nostro progetto stiamo cercando di dare un aspetto nuovo alla chiesa perché faremo dei lavori di consolidamento, perché partiremo dal lavoro che stanno facendo per ora, che è il consolidamento delle fondazioni per dare strutturalmente più equilibrio alla chiesa. Poi lavoreremo pure alla volta che è piena di lesioni e ai tiranti che hanno bisogno di essere sostituiti. Una volta fatte queste operazioni qui sarà smattellato tutto il pavimento perché faremo l'impianto di riscaldamento a pavimento con la serpentina, che sarà poi collegato peraltro, così come l'impianto di illuminazione interno ed esterno, all'impianto di pannelli fotovoltaici che sarà fatto sopra la copertura della canonica. Noi ci auguriamo poi nel periodo di Sant'Antonio, dove c'è una grande devozione, o di continuare lì nella parrocchia e Santa Croce, oppure trovare spazio qui nell'istituto per quei giorni. Molte persone sono contente finalmente che potranno avere una chiesa che praticamente dà un sollievo, una bellezza anche alla loro devozione. Anche perché questi lavori sono stati tanto desiderati, cercati, quindi adesso siamo contenti che perlomeno già sono iniziate, sono a un buon punto, diciamo, di quello che dovrebbe essere una buona sistemazione della chiesa e stabilità. Nonché perché, francamente, durante questo periodo abbiamo avuto diverse volte delle lesioni e quindi ogni volta dovevamo ricorrere a sistemazione.